Noi siamo costretti durante il periodo estivo a tenere chiusi i balconi e le finestre perché non possiamo certamente inalare tutto quello che viene dai fumi e dai rughi tossici che ci sono costantemente, soprattutto la notte che si genera nelle zone e nelle campagne antistante Casori ed Afragola. Sono almeno 4 anni che i cittadini della provincia di Napoli e Caserta videodenunciano i fumi tossici. Ieri è stata istituita una task force di super esperti del Ministero e dell'Istituto Superiore della Sanità con il comando dei Carabinieri del NAS che saranno presto in missione nelle terre dei fuochi. La squadra speciale è voluta dal Ministro della Salute Renato Balduzzi, con un decreto avrà il compito di verificare se l'incidenza della mortalità per tumore, come risulta da una ricerca dell'Istituto Pascale di Napoli, dipenda dai fattori ambientali, in particolare dai fumi tossici. Almeno dal 2008, sono ormai 4 anni, dal momento in cui facciamo la prima denuncia raccogliendo circa 700 firme alla Procura della Repubblica per la questione dei rughi a Scampia. Tu vivi a Scampia? Sì, io vivo a Scampia. La mia abitazione si trova tra due luoghi diversi, diciamo, al centro di due luoghi diversi di attività incendiaria. Anche la Chiesa è scesa in campo al fianco della società civile. Siamo in questa striscia di terra che è stata definita la terra dei fuochi. Noi come Chiesa abbiamo lanciato l'allarme innanzitutto e soprattutto in questo momento, ci dispiace dirlo, siamo quasi insieme ai volontari, ai tanti volontari, a quelle che io ho chiamato le sentinelle buone, questi volontari del vivere civile, siamo quasi soli a combattere questa battaglia.